Grazie a tutti. Grazie e buon appetito a tutti. Lo facciamo così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati campioni d'Italia, gli anni d'oro, gli anni d'oro. Io nascevo allora. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Ciao Galtano carissimo. E' un comportamento di accoglienza che hanno dato in diverse occasioni. Chi è il più forte di voi? Io, è lui. Ohhhh! No, no, perdone. Questa la mandiamo a Roma.